Il risultato a Milano per quanto riguarda la mia parte politica non è buono, è molto buono, se prendiamo il Senato per esempio i partiti che mi supportano la Giunta sono al 55%, quindi io per il 58% siamo lì, non è vero e lo dimostrano i numeri che noi siamo la coalizione, siamo quella della ZDL perché se si guarda i dati degli ultimi anni, oltre al 90-91 siamo andati bene anche stavolta, però capisco che è una magra consolazione. Adesso è il turno loro, devono appunto fare il governo, su questo non c'è alcun dubbio, credo che già dalla decisione dei ministri capiremo anche un po' l'approccio, perché la giornata è brutta per noi ovviamente, quindi ripeto, ma è veramente andato un po' come ce l'ha aspettato. Ma che cosa si è sbagliato? Poi è abbastanza semplice, però con il senno di poi, il PD era in quel mezzo in cui, diciamo così, non era a sinistra avendo rinunciato al rapporto con i 5 Stelle che hanno fatto una politica di sinistra, non aveva dall'altra parte Renzi a Calenda e alla fine è rimasto un po' da solo. Ha sbagliato un po' l'alerta le alleanze. No, diciamo che come vedete come in politica poi alla fine il timing delle elezioni è fondamentale. L'anticipare così le elezioni ha portato un po' a questo risultato, perché era evidente che dopo la rottura dei 5 Stelle non si potesse il giorno dopo dire vabbè fa niente, non è successo nulla e quindi si è arrivato in maniera naturale a questo. Il timing è importante, infatti adesso in questo dibattito interno del PD io da un lato spero veramente che non si riduca a chi sarà il prossimo segretario, se ne passiamo appunto al capo. Ma io non mi auguro niente, mi auguro veramente che ci sia una riflessione sul giudice di sinistra che vada anche un po' al di là delle sigle, insomma alla fine non ci, obiettivamente queste campagne elettorali hanno quasi notato che non ci si intende su quasi niente, che non va bene e che parlare di diritti è troppo poco, oggi parleremo di diritti, per cui ci vuole di più, ci vuole tempo, la fregatura è un po' quella, ci vuole tempo e abbiamo le le lecce del giudice di sinistra, l'Italia si vota sempre. Ma io non mi auguro niente, mi auguro veramente che ci sia una riflessione sul giudice di sinistra che vada anche un po' al di là delle sigle, insomma alla fine non ci, obiettivamente queste campagne elettorali hanno quasi notato che non ci si intende su quasi niente, che non va bene e che parlare di diritti è troppo poco, oggi parleremo di diritti, per cui ci vuole ci vuole di più, ci vuole tempo, la fregatura è un po' quella, ci vuole tempo e abbiamo le lecce del giudice, l'Italia si vota sempre. Al prossimo segretario del PD, lei consiglierebbe di puntare su un'alleanza con il terzo polo o con i 5 stelle, perché sono due linee politiche piuttosto diverse? Se riparti dalle sigle è chiaro che sono linee politiche diverse, però la fatica di cercare di tenere insieme tutti, alla fine premia, è semplice anche per me, voglio dire, noi non abbiamo i 5 stelle, ok, tenere insieme i verdi e i calendarezzi non è una cosa più semplice del mondo, a volte bisogna anche un po' avere pazienza, però alla fine paga. Allora questa legge elettorale ti induce a trovare formule del genere, non è il caso di parlare oggi di legge elettorale, però è chiaro che abbiamo condizionato molto il voto e perché il centro-destra che comunque in un modo o nell'altro ha la sua formula, piaccia, non piaccia, è discutibile, dovrebbe cambiarla. E invece di mai non è neanche entrato in Parlamento? Mi dispiace, io continuo a riconoscere i meriti alla persona e di nuovo torniamo alla questione dei tempi. Operazioni fatte in fretta e furia, purtroppo fantastiche in Italia. A ciò si aggiunge il grande risultato di Conte, ci può piacere, non ci può piacere, è molto focalizzato sul sud, ha cavalli di battaglia su cui noi avremmo qualcosa da dire, va bene però obiettivamente dopo di loro, dopo il centro-destra e più che il centro-destra siamo dopo la Meloni, Conte è indubbiamente un vincitore.